Ragazzi, lo ripeto da anni fino allo svenimento. Il casco è fondamentale perché contiene l'organo più importante del nostro corpo, ovvero il cervello. E proprio per questo non va né scelto né conservato con leggerezza. Deve avere la taglia corretta, deve avere una struttura sana, deve essere allacciato bene e poi, perché no, deve essere anche personalizzato per adattarsi alla vostra fisionomia ed essere perfettamente in posizione in caso di malaugurata caduta. E allora, quasi per caso, ho scoperto che qua, all'interno del negozio di moto abbigliamento di Grosseto, c'è un luogo tanto geniale quanto interessante per un appassionato, ovvero un laboratorio per i caschi in stile MotoGP. Io personalmente non l'avevo mai visto, nonostante tanti anni di esperienza. Allora, sono venuto qua fino a Grosseto per scoprire come lavorano i ragazzi di moto abbigliamento, fare due chiacchiere con Nicola, il fondatore di questa catena, e poi con Andrea, esperienza decennale nella MotoGP, proprio sui caschi, quindi la persona adatta. Adesso andiamo a fare un viaggio fantastico all'interno del mondo dei caschi, a scoprire come sono fatti, quali sono le omologazioni, come si interviene, come va conservato, come va personalizzato, insomma, davvero una cosa molto interessante. Adesso andiamo a scoprirlo e ci rivediamo tra pochi attimi. Andiamo là all'interno del laboratorio dei caschi. Allora, Nicola, anche se non dovessi comprare niente da appassionato verrai qua, perché trovo davvero una bomboniera per gli appassionati di moto, per caschi, tute di piloti della MotoGP, insomma, davvero un angolino molto interessante. Però ci devi raccontare come è nata l'idea di creare questo laboratorio per i caschi stile MotoGP. Praticamente non abbiamo iniziato il rapporto con Andrea De Santis tre anni fa per lo sviluppo della nostra private labor dei caschi Bifast e Carburo. Che ben conosciamo, li abbiamo ospitati spesse volte. Nel parlare, nel confrontarci sono entrato in un mondo che era proprio quello diretto di gestione di servizio a piloti per quanto riguarda l'esperienza MotoGP e anche altre gare, Dakar e cose del genere. Mi sono accorto che lì c'era proprio tutto quello che poteva essere trasmesso al motociclista nella quotidianità, che però è difficile da raggiungere, da trovare, perché dove trovi quello che è il servizio, l'esperienza, la competenza, gli strumenti per dare una cura a un casco tradizionale, un casco normale uguale a quella che si ha nel mondo del racing. Sì, perché fino adesso l'appassionato alla fine gli davano un casco, mi deve andare bene quello e quindi insomma era un po' giocoforza. Invece si può anche creare qualcosa di più. Certo, quindi approfittando del fatto che abbiamo un punto vendita a Grosseto, che è il paese dove opera Andrea, sono andato a propordi e ci siamo confrontati sullo studio di un progetto, che è quello di che vuole trasmettere, che vuole passare tutto quello che è il servizio dell'esperienza appunto racing, o anche nel caso del turistico, però tutto quello che riguarda la cura, la manutenzione e l'utilizzo del casco e anche quello che è il fit, quello che è l'igienizzazione, tutta una serie di cose che riguardano in modo professionale il mondo del casco. Quindi l'idea quale è stata? È quella di partire con uno spazio dentro il punto vendita di Grosseto, che deve essere un progetto pilota che poi vogliamo duplicare nella maggior parte dei punti vendita, quelli che se lo possono permettere in termini di spazio e della catena moto abbigliamento. Quindi come funziona? Io arrivo, ho il mio casco, voglio igienizzarlo, voglio personalizzarlo, l'interfono, già lo montate gratuitamente, quindi io arrivo perché montare l'interfono su un casco che magari non nasce con l'interfono, bisogna insomma seguire alcune accortezze, quindi arrivo da te, dico ti do il casco e tu come avviene l'operazione? Di solito noi puntiamo a dare quello che è il servizio al cliente nel modo più gratuito possibile, a volte succede che in momenti come il sabato e la domenica dobbiamo dire di tornare perché purtroppo c'è un affollamento che non ci permette di servirlo, però se no di solito tutto quello che è l'esigenza dei nostri clienti cerchiamo di gestirla sul momento e quindi si parte da quello che è, quello che può essere il tradizionale montaggio di un interfono al cambio di una visiera, quelle le facciamo normalmente. Poi però c'è tutto quelli che possono essere servizi di igienizzazione, tutto quello che è il fit della taglia per i caschi da pista, quello che è magari un aggiustamento sempre dove si può andare, dove si può andare a operare, perché vi spiegherà poi Andrea che ci sono delle parti che possono essere toccate, delle parti che no ovviamente, per dare la massima vestibilità e il massimo comfort in modo personalizzato al cliente, perché comunque le teste sono diverse, le calotte hanno dei parametri da rispettare, però le teste sono tutte diverse, dove si può andare a intervenire e si riesce veramente a far sì che la vestibilità e la comodità rendano l'esperienza di guida piacevole. Quindi diciamo sempre sicurezza e esperienza di guida, se devo fare un viaggio con un casco che mi dà fastidio, che non è insomma non è adatto alla mia testa, insomma non diventa un piacere ma diventa veramente una tortura. Allora adesso andiamo invece a scoprire con Andrea cosa si è inventato, come igienizza i caschi, quali sono le ultime norme, quindi certificazioni, perché lui davvero ne sa tanto, magari gli chiedo anche qualche chicca sui piloti della MotoGP, perché anche lui speriamo di fare qualche, che ci racconti qualche indiscrezione, invece con te ci rivediamo alla prossima invenzione, perché Nicola ne ha sempre una in testa, ogni giorno si inventa qualche diavolata tra virgolette, insomma ci vediamo alla prossima, bravo, bell'idea, adesso andiamo a parlare con Andrea. Grazie. Un po' atelier, un po' laboratorio, un po' museo, c'è davvero di tutto in questo angolo qua a moto abbigliamento. Cosa troviamo? Vediamo caschi di piloti famosi, meno famosi, cosa, raccontaci un po' qualche, anche qualche indiscrezione direttamente alla MotoGP. Questo è un laboratorio personale con tutta la storia di un'esperienza di 25 anni di lavoro, di sacrifici, di passione, di amore per il casco. Qua troviamo veramente un piccolo ricerche sviluppo di come sviluppare un casco per moto, industrializzarlo e soprattutto tutta la storia della mia esperienza in MotoGP dal 2003 fino al 2018, per alcune aziende e per piloti importanti della MotoGP. Qua possiamo vedere casco della MotoGP di Ducati Pramac Johnny Hernandez, il colombiano, possiamo trovare Loris Buds del team Avintia, Isaac Vignales in Moto3, addirittura abbiamo caschi come quello di Alex Barros del campionato superbike brasiliano, fino ad arrivare al casco del giapponese Yoichi Ui del 2003 e sono riuscito a mettere in testa un casco italiano perché il pilota di tradizione a Rai di famiglia non voleva cambiare il casco, fino a quando con tutte le modifiche, sviluppo dei prodotti e varie, l'hai convinto che funzionava. Il casco funziona. Abbiamo il casco di Anthony West che quando correva nel 2001 con la Honda bicilindrica in 500, casco di Perugini, famoso pilota italiano romano nel Viterbese e Anthony West ancora con Vema. Tutte le tute usate un po' dai piloti originali della MotoGP fino ad avere anche un angolo dedicato al campione della Dakar Marcoma nell'anno 2014. Per finire poi ai caschi di Hector Barberà dell'ultima stagione e del nostro beniamino e sponsor parte della famiglia del gruppo Notavigliamento dalla porta che è il campione del mondo con il casco originale e con lo sponsor dell'azienda. Infatti si sente che trasuda la tua passione come se fosse un po' la tua casa e del resto è anche quello che ognuno vorrebbe nella propria officina, nel proprio garage. Sinceramente Maurizio dopo 25 anni di esperienza sul casco mi sento veramente di poter mostrare tutti questi sacrifici, questa passione, questa evoluzione e questi bei ricordi. Ma soprattutto poter dare quel servizio al cliente finale con quella sinergia che abbiamo trovato con Nicola, con il gruppo Notavigliamento creando le private label quelle che sono di Bifast e Carburo, ma dando veramente un servizio di personalizzazione dei prodotti al cliente finale. Un servizio che ad oggi non esiste in nessun punto vendita a livello mondiale. Di avere un ufficio di personalizzazione del casco ricerca e sviluppo all'interno del punto vendita. Qui si tratta di avere il cliente, posizionare il casco in testa, vedere se la taglia è corretta, se gli sta un po' grande poterlo imbottire, fare una taglia su misura, quasi come un pilota, farlo sentire un pilota, igienizzare il prodotto, sanificarlo, addirittura montare tutti gli impianti bluetooth più particolari sui caschi più difficoltosi, creando sempre un comfort esatto per il cliente, senza intaccare tutti i punti di sicurezza del prodotto. Anche perché non dimentichiamocelo che poi, sì, c'è la taglia S, la taglia M, la taglia XL, però poi ognuno di noi ha una conformazione unica e quindi te giustamente vai a confezionargli un prodotto cucito come proprio fanno i piloti, perché i piloti vogliono il casco che è proprio cucito su di loro. Infatti noi educhiamo i nostri clienti e li appassioniamo al prodotto casco, dove addirittura li insegniamo a leggere l'etichetta omologativa sul casco, come va letta, gli spieghiamo quali sono i materiali dei caschi, differenza tra un termoplastica, tra un vetroresina e tra un carbonio. Perché ci sono differenze di prezzo? Perché i tipi di materiali, i tipi di produzione e alla fine sono modelli più prestigiosi, quindi ci sono differenze. Addirittura riusciamo anche a personalizzare il casco per ogni tipo di utente. In questo caso entra un cliente che ha bisogno di personalizzare il casco perché è troppo grande, riusciamo a imbottirgli e a posizionare glielo in testa in maniera corretta per farglielo ritornare per l'utilizzo corretto, senza intaccare o toccare i componenti di classe S di sicurezza del prodotto. Quindi tutto quello che sono calotta, polistirolo, cinturino, rivetti, che non devono essere toccati prima di tutto per la sicurezza e per non intaccare le garanzie del prodotto e delle case costruttrici per cui andiamo a rappresentare. Secondo me è geniale questa idea, e tra l'altro è da anni che lo dico che il casco va personalizzato, perché permettete in questo modo, a mio parere, di scoprire un nuovo modo di indossare un casco, perché in effetti l'utente medio alla fine si trova quel prodotto, lo deve indossare, ma invece con questo servizio scopre che magari andare in moto a indossare un casco è ancora più piacevole e invece fino a qualche tempo fa non poteva farlo, perché gli veniva affidato un casco standard e quindi se lo metteva e andava bene così. Questo spazio è quello proprio dedicato all'assemblaggio, alla modifica, poi ci sarà un altro angolo che andiamo a vedere, perché ho già sbirciato dietro la porta, c'è il tuo angolettino dove fai tutti i tuoi esperimenti sulle imbottiture, anche per caschi di, non soltanto ovviamente di moto abbigliamento, ma continui tuttora a seguire la produzione, lo sviluppo, l'ingegnerizzazione e la progettazione di caschi e di marchi di livello mondiale, quindi tuttora continui questa attività. Però cosa troviamo allora all'interno di, per adesso, di grossetto moto abbigliamento, ma poi anche di altri negozi. Alle mie spalle c'è un macchinario che io adoro, lo vorrei a casa, adesso ti chiedo se inizi a fare una piccola produzione, perché questo è un progetto e un'idea geniale, perché permette di igienizzare non soltanto i caschi, ma poi anche tanti altri accessori per chi pratica sport. Adesso ci invertiamo di posizione così me lo descrivi e poi ti farò qualche altra domanda sulle omologazioni, certificazioni, che è sempre un argomento molto interessante. Qua troviamo un laboratorio esattamente come a un laboratorio in MotoGP per racing service per caschi per moto, qua abbiamo dal bancone, dal compressore, a tutto quello che sono gli accessori per la pulizia e l'igienizzazione del prodotto, addirittura possiamo montare un cinturino con una macchina, un torchetto per montare i rivetti del cinturino, quindi possiamo montare un casco completo, svilupparlo, personalizzarlo, come un pilota del MotoGP. In più abbiamo l'innovativa macchina di igienizzazione per caschi, che va a sanificare il prodotto, a togliere tutti i batteri dall'interno del casco, lo vedete in funzione, dove viene praticamente sanificato tutto il prodotto, asciugato e già pronto per l'utilizzo. In più oltre al casco si possono aggiungere diversi tipi di prodotti, che possono essere dagli stivali, ai guanti, una giacca e tutto quello che fa parte un po' dell'abbigliamento del motociclista. Quanto dura e quali sono le fasi di questa operazione? Tre minuti e mezzo, abbiamo un casco che viene praticamente igienizzato completamente, dall'inserimento del prodotto, dove viene nebulizzato e inviato questo prodotto igienizzante e antibatterico del prodotto, fino a quando non cambia la luce, cambia colore, ci sarà un aspiratore che va a rimuovere tutta la nebbia all'interno della macchina e un aspiratore che tenderà ad asciugare. Ma è pronto all'uso? Cioè io arrivo da te, ti do il casco? Tre minuti e mezzo. Tre minuti, lo rimetto e me ne posso andare? Puoi fare tranquillamente un giro in negozio a seguire e vedere i nostri prodotti, o fare due parole un po' di piloti o di quant'altro, avere un servizio metti il casco e vai. Allo stesso momento, ti metti il casco e vai. Allora, un'altra cosa sulla quale punto tantissimo è la durata del casco. Solitamente io dico, per sicurezza, sostituitelo ogni tre anni. Le aziende dicono ogni cinque. Poi un'altra cosa che io dico spesso, adesso mi dirai se sbaglio, che molto dipende anche dalla chimica, dal pH della nostra pelle, non tutti abbiamo la stessa sudorazione, quindi ci sono pH che aggrediscono molto di più l'interno, il polistirolo, altri meno. Cosa consigli? Come capire poi se un casco va sostituito, va cambiato all'interno? Cosa consigli ai nostri lettori? Ma, Maurizio, guarda, sinceramente non ti nascondo che oggi tutti i prodotti caschi di tante aziende hanno, le materie prime in cui vengono costruiti, hanno subito uno step di durata nel tempo molto più elevato. Quindi normalmente le aziende consigliano i cinque anni di vita del prodotto, però normalmente il motociclista, ma anche a livello urbano, usando il casco tutti i giorni e portandolo, usandolo, il casco può, normalmente noi consigliamo di usarlo una stagione, una stagione e mezzo, massimo due, se è tenuto con una certa cura, igienizzato e controllato bene. Però questo è quello che normalmente noi diamo come consiglio. Non c'è una data di scadenza, perché lo sappiamo, perché non è un bene alimentare, quindi in teoria non scade, però il consiglio è giustamente quello di tenerlo un anno o due e poi di magari portarlo da te ad analizzare, così gli dici se è tutto a posto, oppure di sostituirlo in modo che viaggiate sicuri. Altre cose, certificazioni, controlliamo ovviamente che il casco sia omologato? Controlliamo che il casco sia omologato. Come già ti dicevo all'inizio, noi educhiamo i nostri clienti a leggere l'etichetta omologativa, a spiegare come va letta la E che sta per Europa, il paese dove viene omologato, il numero di serie, tutto quello che c'è da sapere sulla vita del prodotto dai materiali. In più, quando il cliente porta un casco usato, noi siamo in grado in questo momento di poter dire è un casco da sostituire, è un casco che mi è caduto, se la calotta in fibra ha delaminato, si è rotto, è consigliabile sostituirlo e quindi dare anche questo tipo di informazione sulla sicurezza ai nostri consumatori. Andrea, però già che ti ho qua, dobbiamo sfruttarti anche per le certificazioni. C'è un grande chiacchiericcio, qualcosa sembra che cambierà, dacci un po' la tua impressione. Allora, ad oggi la normativa vigente per l'Europa per i caschi per moto, l'omologazione è la EC2205, attuale e in essere. Si sta parlando molto e sicuramente nella prossima stagione, nel 2021, entrerà in vigore la normativa nuova EC2206. Cambieranno diverse cose a livello strutturale dei prodotti, a livello di omologazione di impatti, quindi sarà anche una normativa molto più severa che metterà ancora più in sicurezza i prodotti che già sono sicuri, però farà uno step successivo. Tipo cos'è che potrebbe essere aggiunto secondo te? Ma la velocità degli impatti sicuramente sarà maggiore, quindi essendo un impatto più veloce l'energia sarà maggiore. I punti di impatto rimarranno gli stessi? I punti di impatto saranno gli stessi in più verranno aggiunti dei nuovi punti di impatto che sono nella nuova normativa. Sarà una normativa molto più vicina all'omologazione FIM che è quella che viene usata oggi dai piloti MotoGP. Quindi parliamo di sicurezza a un livello interessante, cioè avere un'omologazione pari a quella di un pilota. Però torniamo all'argomento principe, cosa devo cambiare o sostituire o modificare in un casco? Allora, lo prendo, tu parlavi di parti che possono essere sostituite e parti che non possono essere sostituite. Allora, ovviamente l'interno può essere modificato, pulito, igienizzato, l'abbiamo detto, mentre non posso intervenire sulla calotta e sul polistirolo. Certo, noi possiamo rendere e smontare tutto il casco dalle visiere all'interno, al bluetooth, i sottogola, gli accessori, tutto del casco, ma non possiamo andare a intaccare quello che è il polistirolo fissato all'interno incollato sulla calotta, il cinturino ancorato e rivettato sulla calotta, perché questi vengono considerati a livello omologativo di sicurezza componenti di classe S. Però poi c'è un altro servizio, a mio parere, geniale, che è quello un po' della, sostanzialmente messa in forma, è un po' come quando uno va a comprare gli scarponi da sci, sono un po' rigidi, ti consigliano, ti consigliavano di tenerli sul divano per un po' di ore. Tu fai lo stesso per i caschi, ovvero io compro il casco, lo sento che comunque è un po' stretto, però deve esserlo, ma lo voglio un filino più confortevole, tu lo posizioni sulle false teste e lo metti lì a prendere un po' la forma. Sì, effettivamente questo è l'esempio più ideale per spiegare a un cliente come paragonare il prodotto casco è quello delle scarpe. Comprando le scarpe con il proprio numero a volte sono un po' rigide e tutte vanno messe in forma dal calzolaio per poter essere diciamo non allargati, però per prendere la forma in maniera corretta. La stessa cosa la facciamo sul prodotto casco, abbiamo delle false teste di diverse misure in base alle taglie del cliente, le mettiamo in forma per un giorno, per una notte, quello che è necessario per poter ammorbidire e prendere forma il prodotto, e ne prendiamo anche poi dopo, aiutiamo il cliente per montare tutto il sistema bluetooth, igienizzare il casco, pulirlo e quindi renderlo su misura, accessoriato di tutti i componenti richiesti dal cliente, formarlo un po' sulle caratteristiche del prodotto e omologazioni e igienizzarlo. Senti però nell'attesa che ci siano più punti vendita che offriranno questo servizio, se per esempio abito a Milano e quindi è un po' scomodo venire fino qua, come posso intervenire e lavare gli interni del casco? Quindi prodotti che sicuramente troviamo qua da molto abbigliamento, si possono anche lavare a mano gli interni, raccontaci un po' come poter agire. Allora quello che noi istruiamo, educhiamo i nostri clienti è quello di sbottare l'interno, assolutamente di non mettere una lavatrice senza centrifuga, ma lavarlo a mano con acqua a temperatura ambiente e con un sapone neutro o addirittura usare dei prodotti specifici che noi abbiamo nella nostra linea caratterizzata per un igienizzante tecnico speciale per caschi che non lascia batteri e non lascia cattivi odori e un pulitore per calotta esterna e visiere dedicate apposta per non rovinare soprattutto anche il trattamento delle visiere e anti-graffici, anti-appannamenti, quello di quanto sia. Il prodotto lo spruzza all'interno e lo lascia agire, devi aspirarlo, devi passarlo con una spugna, cosa devi fare? Allora, normalmente consigliamo di posizionare, di spruzzare all'interno il nostro prodotto, prendere un panno in microfibra bagnato, passarlo all'interno per approfondire un po' la pulizia interna e lasciarlo all'aria soprattutto capovolto in modo che prenda aria e si asciughi in maniera naturale. Andrea, tutto chiarissimo però c'è un'altra cosa della quale vorrei parlare perché tu educhi sì il cliente che entra qua all'interno però a quanto mi ha detto Nicola stai anche cercando di educare e informare poi tutti i ragazzi dei vostri punti vendita. Esatto Maurizio, cosa succederà? Ad oggi oltre a sviluppare prodotti per altre aziende seguire i clienti che vengono qua con il tempo di gestare tutto per formarli e sistemare i loro prodotti c'è l'idea di replicare questo laboratorio nella maggior parte dei punti vendita di moto abbigliamento creandolo con un nome, con una sergia che si sposerà con Nicola che sarà la Helmet Farm. Questo è veramente un nome che dà un senso veramente di coccolare il cliente per il casco, è veramente un servizio d'élite. Mi occuperò anche in prima persona di andare per ogni punto vendita una volta messo in piedi tutto il laboratorio anche a formare i ragazzi di ogni negozio per poter essere formati e preparati a livello omologativo di certificazioni, di materiali, come si va gestito il cliente, come si fa a fare un casco su misura e come va igienizzato per dare un servizio a un cliente per farlo sentire come un pilota. Bene adesso però andiamo a sbirciare dietro quella porta che è alle spalle di Nicolò perché c'è l'angolino dove tu lavori di nascosto quindi andiamo a curiosare un po', dai, andiamo. Ed eccoci all'interno del vero e proprio cuore della tecnica del casco. Qua è tutto per assemblare un prodotto da A alla Z, giusto? Esatto, oltre come ti dicevo del laboratorio da MotoGP come veramente trovi quelli nel paddock è anche un vero laboratorio rd un po' in miniatura come trovi nelle grandi aziende che progettano e producono caschi per moto. Sicuramente qua non riusciamo a verniciare un prodotto, non possiamo stamparlo, non possiamo fare un prototipo, una maquette di stucco però una volta che il progetto è portato avanti quindi gli stampi sono pronti, le prime fasi di stampaggio, le prime fasi di omologazione tutto quello che fa parte delle industrializzazioni del prodotto qua possiamo controllarlo, migliorarlo fino a rendere il prodotto perfetto per la produzione e per quello che richiede il mercato. In questo caso un prodotto del genere che è un primo prototipo che stiamo mettendo a punto, che sto mettendo a punto sto controllando tutte le ventilazioni, i meccanismi della visiera se scorrono, scattano, non fanno rumore, non hanno attriti oppure c'è da modificare qualche stampo per renderlo a punto. Quindi viene fatta una piccola produzione? Viene fatto un assemblaggio di un prodotto con le prime fasi componentistiche stampate e in base a quella mia esperienza intervengo prima che venga prodotto in larga scala. Esatto, prima venga prodotto e omologato. Questa ovviamente è calotta esterna, la forma mi ricorda quella dell'LS2 dovrebbe essere questa. Questa è una calotta piloti MotoGP di un casco all'LS2, 367 grammi in carbonio al 100% rinforzata in Kevlar, super leggera, super robusta per provare a romperla. Ho già provato, è una roba incredibile. Il cuore del casco è il polistirolo. Qui trovate un polistirolo di un jet della Tucano, un polistirolo apparentemente semplice ma è un polistirolo che viene stampato a doppia densità, quindi uno stampaggio molto difficoltoso. Questi tipi di design nella parte superiore del casco non sono solo per la canalizzazione, per l'aria, ma servono anche per attutire l'impatto del test del casco in modo che venga assorbito l'impatto su tutta la superficie e non vada a entrare e avere uno shock sulla testa. E poi qua tu hai tutti i tuoi spessori, spugne, materiali particolari, biadesivi, colle, tutto quello che serve nella vera produzione di un casco per vuoto. Bene, e qui tra l'altro è anche dove personalizzi per chi lo richiede per i vostri clienti. Esatto. Sistemi il casco in modo da adattarsi alla testa di tutti. Nell'altra parte abbiamo l'igienizzazione a vista per quello che può essere la pulizia dei casco, l'igienizzazione, montaggio di bluetooth e cose di uguale. Qua vengono fatte le taglie su misura per i clienti. Veramente trattato come se fosse un pilota. Grande. È proprio malato. È proprio malato di caschi. Andrea, si rilassi e mi racconti cosa le ricorda la sua infanzia. Caschi. 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 Caschi